ed ecco con la vostra pillola quotidiana alle tre puntuali per tenervi compagnia eh su stessa porta pillole di quarantena io con Francesca Bianchi non so mai dove mi appare numero io lo so ciao e poi ehm ospite il nostro ospite è arrivato già puntualissimo allora Marcello Bellatalla buonasera buonasera grazie grazie per l'invito prego dello studio commercialista Bellatalla e associati che fa molto americano non so perché sì in realtà è l'associazione è tra me e mio padre però il nome dello studio non era possibile eh gestirlo meglio abbiamo deciso per questa veste Bellatalla e junior questo sì quello sì che faceva americano va bene no come oggi avevamo preannunciato ieri oggi ci siamo messi la giacchetta tutti Francesca te l'hai messa la giacchetta? No me lo sono scordato non ti si può dire niente allora perché è un argomento serio ehm cerchiamo come sempre di eh toccare un po' tutti gli ambiti di di questa quarantena dal dal ricreativo al culturale eh a qualcosa di un po' più serio come in questo caso eh si tratta delle difficoltà delle imprese ne abbiamo già parlato con i diretti interessati abbiamo avuto ospite il nostro amico imprenditore eh Marco Griffa del eh numero undici eh ma come lui tantissimi altri imprenditori tantissimi altri anche liberi professionisti che in questo momento di crisi di clausura risentono eh del risentono economicamente e finanziariamente abbiamo chiamato appunto Marcello perché ci possa dedicare un po' del suo tempo per ehm vedere se ci sono davvero delle soluzioni e delle misure che sono state adottate per venire incontro a professionisti e ad aziende qualcosa è stato messo in campo all'inizio era tutto molto fumoso eh non si capivano bene le regole non si capiva bene i criteri di accesso piano piano tutto è andato un po' delineandosi ehm almeno per quanto riguarda eh il tempo passato qualche misura eh si può richiedere per esempio partiamo con le aziende le aziende hanno accesso a un po' di liquidità perché il problema poi fondamentalmente sarà quello stando chiuse per due mesi il problema eh immediato è quello di mancanza di liquidità c'è modo di avere qualche risarcimento a livello statale? Sì eh ni nel senso che hai detto bene un po' bello eh sì no voglio dire ci sono ovviamente sono state prese molte misure eh come hai giustamente ricordato ovviamente l'emergenza è tale per tutti quindi anche per chi deve trovare delle delle soluzioni delle risposte immagino che sia un momento enormemente difficile eh noi nel nostro piccolo cerchiamo di interpretare dico io la mia categoria con così come altre che non hanno mai cessato l'attività perché eh i professionisti hanno continuato da sempre la loro attività naturalmente attivando le procedure diciamo di eh con le precauzioni necessarie noi cerchiamo di interpretare e rendere diciamo concrete queste misure che man mano vengono vengono proposte e adottate eh ti ho detto ni perché è vero come sottolinei che la che il problema è più immediato e più eh immediatamente percepibile no da parte delle aziende è un problema di liquidità però è anche vero che in realtà questa purtroppo è una nota tecnica voglio dire però è comprensibile anche a chiunque viva nel mondo dell'impresa il problema della liquidità è soltanto un eh una un sintomo la malattia diciamo è il problema della produttività quindi il fatto di aver impedito legittimamente per motivi ahimè eh ben più importanti eh la possibilità per precludo la possibilità dell'impresa di produrre ha generato una una mancanza di liquidità che è il il sintomo più più evidente e più immediato eh in in questo senso la risposta del del dello Stato diciamo attraverso varie fasi di di produzione documentale decreti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri conosciamo ormai no le conferenze del 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 povero Conte al quale al posto del quale non vorrei essere nemmeno perché no no nessuno di noi vorrebbe esserlo questo è certo ha veramente vinto la lotteria cioè il Presidente del Consiglio dei Ministri nel periodo vabbè comunque diciamo che nelle varie eh fasi si sono succeduti alcuni alcuni provvedimenti l'ultimo e più noto anche diciamo almeno a livello così epidermico dei quali è quello dei famosi tra virgolette venticinque mila euro di accesso al credito per le aziende che però eh ecco c'è un però sembrava troppo bello di rispondere venticinque no ce ne sono diversi di però diciamo che è uno strumento che sicuramente eh ha una valenza positiva che sembra un po' più concreto degli altri no sembra più più vero tra virgolette allora mettiamola così il più vero il più veloce il più concreto anche se poi all'inizio è stato veramente un delirio capire come come si poteva mettere in atto è stato quello dei 600 euro sempre parlando per diciamo dando alle cose i nomi più immediati che conosciamo tutti perché oggettivamente quello è stato poi eh realizzato concretamente al di là che 600 euro siano pochi e tanti tanti no ma insomma voglio dire però ha dato un contributo a fondo perduto quindi non richiedibile non un prestito a una serie di una un'ampia gamma di imprenditori e professionisti e e e soprattutto ha fatto una una eh selezione in base al reddito cioè sotto un certo reddito quelli sopra non erano ammessi e quindi secondo me è stato il più concreto i 25 mila euro ci hanno diverse diversi aspetti positivi sono innanzitutto eh come dire un accesso al credito eh garantito in in proporzione al fatturato dell'anno precedente o del 2018 senza entrare ora nei dettagli alcuni tipi di tipologie di prestito si fanno riferimento al 2019 altre al 2018 se si sta sotto i 25 mila euro si fa riferimento al fatturato 2018 però e appunto si diceva Elisa ha detto ci sono dei però però sono innanzitutto che l'importo del del credito concesso è eh al massimo pari al 25 per cento quindi un quarto del fatturato quindi è fino a 25 mila euro ma se un'azienda un'impresa la vita di duale una società hanno fatturato che ne so eh 10 mila euro ora è un po' poco 20 mila euro ipoteticamente il credito concesso è un quarto quindi fino quindi al massimo 5 mila euro quindi l'idea dei 25 mila euro che per l'appunto può rappresentare una somma anche rilevante per piccole micro imprese eccetera e invece da rapportarsi al fatturato quindi ciascuno in proporzione a quanto produce. No 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 che subito non facciamoci affascinare subito da questi 25 mila euro. Dalla cifra. Dalla cifra che sembra costicua che lo è comunque però insomma queste limitazioni e poi soprattutto un'altra cosa bisogna dichiarare di non essere eh cioè di essere una ditta sana almeno per quanto riguarda l'anno passato. Questa è una cosa anche. Non bisogna dichiararlo peggio bisogna che ci siano. Dimostrato. Delle verifiche. No ci si. Cioè il punto principale e il difetto fra virgolette principale a mio parere però naturalmente eh è difficile trovare alternative ma il difetto principale di questa misura è che è un accesso ed è un ricorso al credito. Quindi sono somme che vengono messe a disposizione delle imprese dagli istituti di credito e che quindi rappresentano un debito che andrà restituito con una serie di eccezioni voglio dire cioè non di eccezioni di attenuanti perché il la restituzione del prestito comincerà dopo due anni quindi lo Stato ha lasciato due anni di tempo quindi per tornare si spera alla normalità produttiva e non solo prima di cominciare a restituire questo prestito. Però è un prestito quindi è un indebitamento. Se in secondo luogo in quanto tale in quanto prestito concesso dall'istituto di credito l'istituto di credito deve valutare se ci sono i presupposti per concederlo e qui si arriva a quello che dicevi cioè ad un'azienda per farla breve non entrare troppo nei tecnicismi ad un'azienda in crisi che già era in crisi precedentemente in crisi di liquidità usiamo questo termine generale e che quindi non ha come dire la cui situazione negativa non è determinata da qui dalla contingenza che ci tocca tutti ma ahimè esisteva precedentemente difficilmente potrà avere erogato un credito perché comunque la valutazione dell'istituto di credito è sempre quella di rientrare di queste somme che vengono erogate. Non è beneficenza? No assolutamente ma soprattutto al di là della beneficenza non è un contributo diciamo in quanto tale a fondo perduto. Si è parlato cioè si è parlato il presidente Conte ha parlato nell'ultima lunga puntata dell'epopea dei collegamenti dei suoi delle sue comunicazioni ha parlato di scusate ma ha parlato della possibilità che del fatto che saranno invece erogati dei contributi a fondo perduto e saranno presi in considerazione delle misure di sgravio per quanto riguarda gli affitti altro tema assolutamente delicato l'affitti d'azienda, gli affitti dei locali dove si sbagliano le imprese. Però questo in in un futuro si spera molto prossimo nel quale saranno reperite i fondi perché ad oggi noi siamo ancora in attesa di una collaborazione diciamo europea che ci dimostri finalmente che l'Europa è un diciamo un ente concreto. perché al momento il fatto delle necessità di reperire somme così ingenti non è stato possibile altrimenti che attraverso appunto gli istituti di credito perciò i 25 mila euro e poi ci sono anche soglie superiori per con altri tipo con altre tipologie di operatività e con altre modalità di accesso quindi non è solo fino a 25 mila euro cioè fino a 25 mila euro con il 100 per cento di garanzia da parte dello stato poi ce ne sono anche superiori però sono comunque accessi al credito cioè sono prestiti sono finanziamenti e quindi devono essere erogati dagli istituti di credito con dei criteri ovviamente non così alla leggera ma con dei criteri analoghi seppur non identici a quelli che c'erano prima. Ecco perché ho detto Nì. Io ho due domande le posso fare? Sono prima domanda è tipo lo stato d'animo che te percepisci dall'altra parte cioè appunto gli imprenditori le partite IVA cosa come stanno le persone con cui entri in contatto come come la vivono questa fase di crisi profonda e due come è cambiato se è cambiato il tuo lavoro tutti i giorni nel senso io ora vedo una scrivania di vetro bella linda e pulita e vuota in ordine sembra ma io me immagino quella di un commercialista piena di pratica in questo pomeriggio in questo periodo perché tutti si rivolgono con un sacco di dubbi a lui allora le domande sono entrambe interessanti alla prima ti rispondo così sembra pulita va bene quindi in virtù del collegamento mi pareva carino rispondo prima alla seconda perché ormai ho cominciato da quella sì il mio lavoro come quello di tutti di tutti coloro che fortunatamente possono continuare a lavorare c'è chi non ha potuto è assolutamente cambiato è cambiato dal punto di vista della della frenesia relativamente perché tanto in questo periodo avremmo avuto comunque una frenesia legata alle scadenze ordinarie ma sono come dire fanno parte ordinaria e fisiologica del mio lavoro le scadenze i bilanci e poi dopo le dichiarazioni questa invece è una frenesia relativa all'ignoto quindi sicuramente io spero di essere riuscito ma sicuramente ho provato a interpretare tutte le norme che si sono succedute non solo per il sostegno dell'impresa ma già prima da chi poteva operare e chi no i famosi famigerati 600 euro tutti gli altri tipo le altre tipologie di iniziative che riguardano le imprese ma anche le persone fisiche perché poi le imprese sono fatte di persone per cui non è che i miei clienti si interessano soltanto della loro attività aziendale si interessano anche giustamente della propria vita personale quindi vai a unire tutto quindi questa attività è stata prevalente preeminente negli ultimi due mesi ormai e si ha sicuramente scombinato no un po quello che è il nostro la nostra mia quotidianità professionale tra l'altro io lavoro ho tre persone che collaborano con me e due delle quali lavorano da casa in smart working e quindi come molte altre attività ho provato questa nuova modalità a me lascia sempre molto spaisato però sembra oggettivamente molto efficace e efficiente e efficace perché persone addirittura sembra che rispondano prima alle alle sollecitazioni quindi devo fare complimenti alle mie collaborazioni però ecco sì è cambiato in questo senso e questo mi riallaccio così alla tua prima domanda concerne tanto in gran parte anche lo stato d'animo che si percepisce negli imprenditori e nelle persone con più a che fare e devo dire a proposito di stati d'animo insomma immagino che per esempio legate ai famosi 600 euro che abbiamo più volte nominato appena c'è stata questa questa comunicazione insomma tutti ti abbiano cercato forse per la notizia più importante è una cosa molto carina tra tante virgolette che ha generato questo periodo è stata grazie alla nostra era tecnologica e grazie al fatto che tutti siamo in possesso non solo dei mass media classici ma anche di internet e di tutti i siti possibili immaginabili social che possiamo di cui possiamo soffrire grazie a questo le novità diciamo introdotte progressivamente sono state prima diffuse sui social su internet male male nel senso in maniera approssimativa senza le fasi procedurali da seguire con dei concetti spesso non esatti e solo successivamente lavorate per chi doveva in qualche modo gestirle per cui sia 600 euro sia 25 mila famosi due giorni prima che si potesse anche solo pensare di avere un decreto pubblicato e da leggere e interpretare sono cominciate a piovere le telefonate tra l'altro telefonate mail whatsapp tra l'altro i 600 euro in particolare per i 600 euro era stata paventata la ghiacciante possibilità del click day e questo nome si è meraviglioso per cui era una corsa all'oro stile clondike chi prima arriva meglio all'orge sarebbe stata una follia clonike lavorosa infatti c'è stato poi un un dietro fronte in questo in questo senso ma le persone giustamente dicono però allora muoviamoci subito e quindi in questo senso si siete stati a saliti via voi come commercialisti siete stati a saliti però devo dire la verità io ho dei clienti mi ritengo un affortunato un po si cerca pian piano negli anni di crearsi no la cliente a un certo modo sui clienti con cui ho un rapporto sempre molto collaborativo in entrambi i sensi quindi sì magari c'eri 150 telefonate in mezz'ora per lo stesso motivo però poi se ti interfacci con le persone ci parli ti ascoltano hanno giustamente ci deve essere un rapporto di fiducia se c'è un rapporto di consulenza professionale per cui capiscono che si fanno le cose quando si può fare non è che non ho voglia se non è ancora uscito il decreto e sì anch'io si parla ci confrontiamo però più che farti diciamo da specchio più che fa una chiacchierata non posso fare quando è stato possibile operare lo abbiamo fatto il più presto possibile però è lo stato d'animo di cui parlava francesca è molto variegato perché io ho clienti che non hanno mai smesso di lavorare clienti che non hanno risentito della crisi della contingenza diciamo la crisi sanitaria perché sia per tipologia di attività che per tipologia di clienti loro magari all'estero eccetera non ha avuto nessuna flessione le loro attività e al lato opposto ci sono persone che invece con le classiche attività di ristorazione di bar di negozi commerciali parrucchiere che invece hanno cessato completamente e vivono in una situazione surreale di attesa di qualsiasi notizia possa dare loro e ti raccontano ti raccontano come tu fossi tipo lo psicologo questo sempre questo sempre credo dipenda dal tipo di professione di approccio alla professione ma io c'ho sempre un approccio anche sempre un po lettino sì no ecco io lo faccio perché lo apprezzo se no non lo farei però ecco a volte in certi momenti quando si concentra tutto insieme fai fatica no a trovare poi delle attese delle attese ora c'è questa famosa attesa di questa fase 2 e a questo proposito anche qui non abbiamo delle indicazioni ben precise però ci sono già delle misure preventive che sono state definite che dovranno tenere le aziende libero professionisti per riprendere la professione quelli che potranno riprenderla insomma in questa seconda fase per questo ci sono anche delle eh dei crediti d'imposta per l'acquisto di non so di materiale per le per la sicurezza per la protezione è previsto qualcosa vero? Sì eh questo è il grandissimo tema attuale e credo temo che lo sarà per un bel po' nel senso che eh è sacrosanto che si eh pretenda eh voglio dire proprio per una eh in omaggio a una una sicurezza di tutti no? Che chi ricomincia o anche comunque chi non ha mai smesso eh adotti dei protocolli tali da poter far eh svolgere di poter svolgere e far svolgere i suoi dipendenti clienti e fornitori la propria attività in sicurezza non c'è dubbio sul come arrivare a far questo c'è una tale varietà di casi di casistiche derivante banalmente dalla tipologia di attività svolta e dai locali dove la si svolge che cambia tantissimo eh l'approccio eh individuale che l'imprenditore da una tipologia un'altra dovrà eh dovrà assumere a livello anche di spesa da eh mettere in conto per adottare tutti questi protocolli. A questo proposito sì i crediti di imposta ci sono eh le sono previsti i crediti di imposta per l'acquisto dei dispositivi di protezione cosiddetti genericamente sui ruoli di lavoro che appunto possono variare da uno studio professionale come il mio dove il dispositivo di protezione prima restanda prima restando la distanza tra le persone no? Distanza molto sociale il dispositivo di produzione di protezione è quello individuale la mascherina il come si dice il disinfettante apposito per per le mani messo a disposizione di tutti all'entrata e poco più però se vai in una azienda manufatturiera no? Se si parla di produzione industriale chiaramente potete immaginare quanto a a a che livello esponenziale si moltiplichino invece queste 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 procedure da da attuare quindi banalmente dai dai divisori in flex che abbiamo cominciato ci stiamo abituando a vedere per primi nelle farmacie almeno io ho visto per primi nelle farmacie perché poi in altri posti ci si va quindi a parte il supermercato eccetera e e quindi è previsto che per il 50 per cento di queste della spesa eh relativa a questo tipo di attrezzature e a questo tipo di procedure a questo tipo di strumenti per la salvaguardia della protezione del luogo di lavoro eh sia corrisposto a un credito di imposta ad oggi non si sa diciamo eh in che termini pratici voglio dire è tra i non si sa anche quello è tra per il momento è il mondo del non si sa però però questo è molto più facile perché tra il non si sa dover riferire fondi che non si sa enorme e non si sa da quando sarà operativo il credito di imposta che però è già stato stabilito nel 50 per cento del e quale sarà il codice per applicarlo insomma solo non si sa ma almeno sia la certezza della piena la certezza dell'entità cioè dell'anno e del quantum sicuramente sì e anche quando no penso anche a strumentazioni strumentazioni grandi appunto per le produzione della temperatura c'è per esempio sì sì ci sono telecambere per la misurazione della temperatura che hanno un costo anche più rilevante sicuramente rispetto c'è anche un contributo imprese c'è ci sarà anche un contributo imprese da parte dell'INAIL che era previsto nel DL quello 18 per uno dei primi del decreto legge 18 è stato di marzo ora la data esatta non me la ricordo il il decreto imposto da parte dell'INAIL dovrà essere oggi è 30 quindi era oggi il termine ultimo per la delibera da parte di INAIL di uno stanziamento di un importo di complessivo di 50 milioni di euro sempre destinato alle aziende per l'acquisto dispositivi di protezione individuale però qui il non si sa è un pochino più ampio perché intanto io personalmente non so se entro oggi è stato deliberato e soprattutto poi le modalità le tempistiche le modalità di erogazione presumo che ci vorranno dei bandi visto che è l'INAIL non lo so comunque una domanda un'istanza qualcosa mentre il decreto d'imposto di cui parlavamo prima è molto più la domanda beh certo comunque sia le tempistiche sono talmente rapide rispetto al normale avvicendarsi delle normative erogate quindi insomma immagino che sia anche plausibile questa eh questa lentezza e questa incertezza in alcuni in alcuni lati eh niente io direi per ora ovviamente abbiamo esaurito solo una parte delle domande in questione perché sono tantissimi dubbi tantissime domande tantissime noi eh ti ringraziamo Marcello per averci dedicato il tuo tempo per averci magari dato qualche spiegazione in più eh ci auguriamo che le incertezze vengono dipanate al più presto e noi ora passeremo alla parte un po' più ludica se vuoi rimanere con noi ludica è un termine gentile per dire scemetta ma insomma che è la nostra specialità intanto vi ringrazio io per avermi coinvolto spero di essere stato utile anche se appunto no potresti anche tornare per una seconda puntata quando c'è qualche novità particolarmente importante magari da spiegare meglio no insomma voglio dire molto volentieri molto volentieri per la parte ludica io posso rimanere volentieri perché apprezzo anche quella non solo le questioni noiose se mi volete allora se vuoi ti diamo ti diamo un importante delucidazione su cosa puoi vedere stasera in televisione perché ci sono quello facciamo la sera non si può uscire solo la televisione la sera esclusivamente la televisione e stasera francia ti hai visto qualcosa di interessante secondo me ho visto una cosa che hai notato pure te e su cielo alle 23 c'hai nulla te io ce l'ho no lo sai che no cosa c'hai successo è cara mia c'ho carne tremula di almodova si è sfuggita lo sai perché sì sì con la francesca neri tra l'altro giovane e stupenda proprio era proprio bellissima perché il film è del 97 e quello che se l'ha detto l'altro giorno come si dice ciave bardem come si dice che lo dici meglio che non mi riesce e e quindi è un film un po' interessante atmosfera all'almodova proprio tipica anche dialoghi un po spiazzanti però alle 23 secondo me insomma non è noto ora noto ora che su venerdì di repubblica che io per vedere cosa c'è in televisione ti avevo detto che da questa settimana c'è la cine 34 no sul mio consiglio ecco cine 34 mi accorgo ora che è subentrata a cielo ma convivono sono conviventi sono congiunti cosa sono certo sono congiunti sulla televisione ma su venerdì no va bene aveva eliminato cielo forse aveva preso effettivamente cielo ultimamente ha preso uno spazio no una via un po un po più oscura carne trevola va bene e poi c'ho un'altra cosa se no se si vuole una cosa un pochino più innocua per gli amanti dello sport alle 21 su rai sport c'è la miniserie è una replica però io per esempio non l'avevo vista su piatro mennea la freccia del sud secondo me potrebbe essere anche interessante vederla un po più questo un consiglio più per i maschietti forse va bene loro e le 21 guardano pietro mennea anche da consigliare quelli di domani perché noi domani non siamo in onda è vero io ce l'ho uno per domani però fai te per stasera va va bene allora finiamo stasera io per stasera senti ti ma a me mi attirano anche questi filmetti che mettono alle 4 del pomeriggio che sono i classici film che uno si guarda sul divano sai un po sprandiale con un po di abbiocco per ora anche quello della come si chiamano come si quella che fa tutti i libri rosa france te lo sai non sono un divino sì quella lì quella tutti ambientati in svezia in questi posti qui in mezzo alla natura che se ti addormenti a metà ti puoi risvegliare alla fine non hai perso niente ecco allora tipo questo secondo me su tv 8 c'è un marito da addestrare che insomma magari c'ha dei consigli anche utili ma appunto io non lo so lo consiglio alle 4 potrebbe essere interessante ora magari marcello un po meno interessato io sono studio io sono studio quindi purtroppo la televisione studio l'accendi di sottofondo purtroppo lo perderò avresti potuto sviluppare una tattica di protezione contro chi invece studia come addestrare non potrai non potrai non potrai correrò il rischio allora sempre per la scia secondo cui cine 34 mi sta deludendo alla grande anche oggi non c'è niente però io ti consiglio su ray movie alle 19 e 25 patroclo o con con tre o patroclo il soldato camillone grande grosso e frescone un film di mariano laurenti con pippo franco anche questo è rilassante secondo me questo può regalarci delle perle eh va bene ho una riflessione molto interessante però perché lo sto notando in questi giorni allora non so perché sarà perché siamo in quarantena e abbiamo bisogno di essere combattivi pensare che ce la faremo ma stanno facendo un sacco di film con bruce willis te giri giri su qualsiasi canale ci becchi bruce willis anche lui la domanda è come di spenica quanti cavolo di film ha fatto va bene si spuntano a tutte le parti è un po' come Luigi Fennec insomma effettivamente anche come è stosserone perché abbiamo bisogno di no di combattere domani sera questa è la mia teoria alle 21 e 10 su paramount c'è armageddon tanto che certo mi sembra un po' un po' una cattiveria ogni sera su qualche canale anche su più di uno perché mi sembra che domani bruce willis abbia il dono dell'ubiquità sia anche da un'altra parte tetto lo ritrovi in qualche film comunque l'altra sera c'era contagion dicevo sono un po' cattivi questi film da mettere in quarantena no dico contagio rispetto a armageddon e acqua fresca ormai mi sono buttato purtroppo sono sulle serie cioè ho scoperto con ritardo la casa di carta ne sto guardando 36 puntate io la sto guardando con mio figlio iniziato la seconda stagione io ho avuto la quarta ora appena si butta giù ti faccio lo spoiler no no fermo oh sei buono tra l'altro lì hanno nominato giusto nella puntata che ho visto ieri bruce willis eh ti ho detto perché mio figlio mi ha chiesto chi era bruce willis mi è arrivato in impresa ma chi è bruce willis lasciamo perdere le domande dei figli e delle figlie in questo periodo non ne parliamo io a Elisa lo sa e non lo dico diretto davvero no no non lo diciamo allora senti eh chiudiamo allora con domani ti mi hai detto di bruce willis io ti dico che c'è 34 invece domani eh allora regala mio fratello figlio unico che a noi ci piace tantissimo vero Franci eh a noi ci piace tantissimo eh immagino eh a noi ci piace tantissimo e lo fanno di pomeriggio alle 17.35 sì però avete pazienza dopo vi guardate l'insegnante viene a casa con Lino Banfi Edwige no? non c'è Edwige? Edwige e dopo ancora alle 21.10 la bella Antonia prima Monica e poi Dimonia con Edwige Fennec Edwige con Edwige Fennec questo ci viene d'accordo che per il primo maggio invece ha voluto regalarci un po' l'insesto un po' più colposo quindi a parte questo eh basta c'è anche 900 su Rai 1 su Rai Movie quello sarebbe anche un bel film eh sì infatti se volete darvi al culturale eh vi guardate 900 di Bertolucci mio fratello è il figlio unico però è un bel film sì è vero è vero mio fratello è il figlio unico è veramente a cui vi riferite biecamente voi no no Elio Germano ci piace a noi ci piace Elio Germano no errore a noi ci piace Elio Germano è per l'altro spessore eh ci piace noi siamo per Elio Germano tutta la vita dispiace ah sì da un altro punto di vista ma anch'io a parte questo comunque riconosciamo che Scamarcio comunque nel film fa la sua va bene siamo andati parecchio oltre salutiamo Federico in regia ciao Fede ciao e vi diamo l'appuntamento non a domani andiamo direttamente alla prossima settimana che inizia la fase 2 ciao a tutti grazie ciao grazie ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti